Allora ragazzi oggi penso è uno dei giorni più belli di tutta la mia vita Oh oh questa è cosa seria, raccontaci vai Scusate sono super contento, vorrei con... Eppure mi ricorda una risa Oggi voglio condividere con voi uno dei prodotti che utilizzo maggiormente per ottenere un sorriso bianco Raccontaci vai L'utilizzo è veramente facilissimo, è un prodotto adatto a tutte le tipologie di denti e anche a quelli sensibili Basterà applicare le strisce nella parte sopra e nella parte sotto dei denti e mantenerle però almeno per... Oggi voglio condividere con voi il segreto del mio furto Mia nonna aveva appena finito di spolverare Squillo il telefono, mia zia Franca Al che mia nonna distorse lo sguardo dal centro tavola Io iniziai a fissarlo prepotentemente Era lì, quel centrino Sopra di lui solo una foto Una foto ricordo, una foto vecchia Rubai il centrino E me lo misi nel collo Per poi andargli a sciacquare Una volta sciacquati noterete già... Questo è il vero metodo per evitare di dire cazzate Magari lo scotch devo metterlo esattamente così Non così... Così... Magari... Sperando davvero che i denti mi diventino bianchi grazie a un pezzo di scotch E vabbè... No... Così... Vabbè... Noterete già da subito i denti visibilmente più bianchi E oltre ai denti bianchi grazie al filtro Ecco come fare uscire due wuster Al posto delle labbra Ormai una guerra persa